salve a tutti amici di professione led oggi torniamo a parlare di fare angoli con i profili in alluminio vedete cosa ho realizzato adesso vi spiegherò come sono riuscito a farlo in maniera davvero semplice prima però vi chiedo di iscrivervi al mio canale e vorrei avvisare tutti gli utenti di tik tok che è purtroppo nei video che noi facciamo su tik tok non possiamo mettere i link dei prodotti come su youtube ma basta che ci scrivete un messaggino dalla messaggistica di tik tok e noi vi risponderemo con tutte le informazioni che vi servono ma veniamo all'argomento di oggi come ho fatto questo bell'angolo a 90 gradi allora vi faccio vedere due nuovi accessori che ci aiutano in maniera semplice senza attrezzi e senza tante difficoltà a realizzare questo angolo allora vado a togliere le cover che ho messo apposta per nascondervi un po la realizzazione e vado a smontare 1 2 3 e 4 abbiamo utilizzato questo connettore lineare e questo connettore angolare con il connettore lineare abbiamo semplicemente potuto unire questi due profili in alluminio come ho fatto beh è molto intuitivo ho inserito il primo profilo ho inserito il secondo profilo ed ecco qui che abbiamo realizzato la nostra aggiunzione lineare senza tanti pensieri senza doverci cervellare se mettere una clip in mezzo se metterne una qui e una qui si avvicinare ecco qui facile veloce e il risultato è ottimo a volte c'è solo questa esigenza cioè unire due profili lineari ma spesso c'è l'esigenza anche di fare l'angolo e allora taglia il profilo a 45 mettilo vicino non viene preciso finita questa storia qui inseriamo il profilo qua inseriamo l'altro profilo qui abbiamo fatto il nostro angolo voi mi direte sì ma qui non c'è il profilo in alluminio sì ma questo è di metallo è fatto apposta in modo tale che noi possiamo mettere dentro la nostra striscia e avere comunque la dissipazione dopodiché con la nostra cover andiamo a fare il nostro bell'angolo ed ecco qui che abbiamo fatto un angolo a 90 gradi non ci resta altro che mettere la striscia dentro e anche se abbiamo un'illuminazione diretta quindi immaginiamo che questa sia proprio verso il pavimento basterà mettere vicini e le cover adesso ovviamente qui un po ballerino perché non è fissato ma potete vedere che poi l'effetto luminoso sarà di completa uniformità allora abbiamo utilizzato il connettore lineare il connettore angolare come dicevo per gli utenti di youtube nei commenti e nella descrizione in bio vi lascio i link di questi prodotti e anche del profilo dei profili che possono essere utilizzati con questo con con questi connettori iscrivetevi al mio canale lasciate un like se vi è piaciuto il video e spero vi sia stato utile per le vostre realizzazioni led a presto ciao 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 Grazie.